Sei alla ricerca di un boost naturale per le tue erezioni? Concentriamoci sugli alimenti che incrementano l'ossido nitrico nel corpo, essenziale per una funzione erettile ottimale. Primo, aglio e cipolla. Questi ortaggi non solo arricchiscono i tuoi piatti, ma stimolano la produzione di ossido nitrico, favorendo erezioni più forti e durature. Secondo, il cocomero, o citrullus vulgaris. Questo frutto è una fonte eccellente di citrullina, un aminoacido che il nostro corpo trasforma in ossido nitrico, essenziale per migliorare la qualità delle tue erezioni. Terzo, il cacao. Oltre a essere un piacere per il palato, il cacao sostiene la funzione dell'endotelio, la parte interna dei vasi sanguigni, migliorando la produzione di ossido nitrico e facilitando erezioni più robuste e reattive. Un consumo equilibrato di questi alimenti può trasformare la tua vita sessuale, rendendo le tue erezioni più forti e vigorose. Vuoi conoscere tutti gli altri segreti per potenziare la tua energia sessuale? Libido da Spartano offre la soluzione perfetta per te. Questo protocollo, creato dal dottor Andrea Militello, l'andrologo numero uno in Italia, ti guiderà attraverso un percorso di 21 giorni con consigli su come sfruttare ormoni, sport, alimentazione e integrazione per portare la tua libido alle stelle e ottenere erezioni forti ed esplosive come a 20 anni. Vuoi dare una svolta alla tua energia sessuale e goderti erezioni che durano a lungo? Scrivimi in DM per sapere come ottenere subito libido da Spartano.